Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Conflenti, in mia compagnia abbiamo Maria Grazia Mastorianni che è vicepresidente della Proloco, giusto Maria Grazia? Sì, esatto, vicepresidente della Proloco di Conflenti. Perfetto, io oggi ti ho voluto incontrare perché so che c'è Conflenti Sport da qui a breve, praticamente quando sarà l'iniziativa? Allora, iniziamo il 7 agosto 2017 e per terminare il 13 agosto 2017, da lunedì a domenica. Quindi questo è un evento che si svolge da quanti anni? Questa è la seconda edizione, il secondo anno, però siccome l'anno scorso abbiamo avuto un riscontro più che positivo, quest'anno abbiamo pensato di riproporlo. Ok, ci vuoi spiegare in breve, se riesci, cosa accade in queste giornate del Conflenti Sport? Si parla appunto di sport, quindi immagino ci saranno varie discipline. Allora, posso anche elencare il programma più o meno in linea di massima. Allora, si parte dal lunedì e lunedì abbiamo un torneo di calcetto, ricordando un nostro amico che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, che è Fabio Orlando, quindi è proprio una sorta di memorial a Fabio che si svolgerà in un solo giorno. Il martedì abbiamo, oltre alla corsa tra i vicoli del Centro Storico, il Conflenti Superiore, ci sarà anche un amichevole di pallavolo tra la Pezzia Volley e Pianopoli Volley, che militano in serie B e in serie C nella pallavolo italiana. Il mercoledì, oltre al torneo di tennis tavolo che è la sera alle 21 in palestra, ci saranno comunque degli altri eventi nel pomeriggio, sempre a livello sportivo, però sono importanti da ricordare giovedì l'inizio del torneo di beach volley che si prolunga fino a sabato, con prima i gironi e poi sabato la fase finale. E' un'esibizione di spinning guidata dal Centro Sport e Benessere SD di La Mezzia, che faranno appunto questa esibizione di spinning, e il venerdì invece la palestra Salus con Kangoo Jump e Zumba. Per terminare c'è sabato, venerdì sera, cioè ci sarà un torneo di calcio balilla e carambola, e domenica, sera, ci sarà proprio una serata caraibico, oltre alle premiazioni ci sarà una serata caraibico disco, in cui ci divertiremo, diciamo, ci scateneremo anche per sfogare un po' tutta l'ansia di tutta la settimana. Perfetto, insomma, praticamente questo Confrenti Sport abbraccia varie discipline, ma anche altre, diciamo, situazioni relative allo sport, come il ballo, adesso tu mi parlavi di danza caraibi, è un modo, visto che fai parte della Proloco, per valorizzare il territorio, penso che l'abbiate fatto con questo criterio. Esattamente, è un modo per valorizzare il territorio, per valorizzare la Calabria, perché non è una regione dimenticata, come magari si può pensare, ma anche per valorizzare la scuola di danza, ad esempio, di Confrenti, che si esibirà appunto durante la serata di venerdì. Mentre ci sarà il torneo di carambola e calcio balilla, da un'altra parte ci sarà uno spettacolo di danza, quindi chi non è interessato a uno sport più maschile, come il calcio balilla, come la calambola, può andare a danzare, a ballare con le nostre ragazze. Volevo chiederti un'altra cosa, sei molto giovane, quindi io penso che oltre a dare risalto, insomma, a questa iniziativa lodevole per il comune di Confrenti, ma penso per tutto il comprensorio, puoi, se vuoi, lanciare un messaggio anche ai ragazzi più giovani, che magari sono abituati ormai a fare le battaglie virtuali, cimentarsi magari con lo smartphone in applicativi, e non magari a battaglie reali che invece ti danno la possibilità di interagire. Infatti, proprio parlando di questo, l'anno scorso noi siamo rimasti sorpresi dal punto di vista sempre positivo, perché un sacco di ragazzi che siamo abituati a vedere sempre con i cellulari, sempre con PlayStation, sempre con Xbox, erano qui a giocare tra le piazze, tra una piazza e l'altra, era diventato proprio un villaggio, un vero e proprio villaggio turistico, alcuni giù in piazza davanti al bar centrale, altri davanti al bar visore, tutti a giocare, tutti a duellare, ma fisicamente, non virtualmente. Anche perché poi comunque in questo caso lo sport unisce sicuramente per la vittoria, ma di certo anche per la partecipazione, diciamo, a qualcosa che ti dà il senso della squadra. Volevo chiederti dove si possono trovare dei riferimenti per questo evento, esiste una pagina Facebook, sito e internet, farete delle pubblicità in giro per la città? Allora, sì, quest'anno il Conflenti Sport 2K17, questo è l'evento in sé, è, diciamo, realizzato da Conflenti Trekking, il presidente di Conflenti Trekking è Emanuele Mastroianni, Conflenti Trekking è anche una pagina su Facebook, ed è realizzato quest'anno per la prima volta in collaborazione con il CSAIN di Cosenza, della Regione Calabria, che è sito a Cosenza, che ha voluto proprio promuovere questa iniziativa come Settimana dello Sport CSAIN, quindi per noi è una soddisfazione ancora più grande, perché vuol dire che in tutta la Calabria si sono resi conto che l'evento funziona e che continuerà a funzionare. Perfetto, poi tu sei Maria Grazia Mastroianni, abbiamo detto, quindi chi ti volesse cercare su Facebook e chiederti magari delle informazioni logistiche su come arrivare a Conflenti, perché comunque è indirizzata non soltanto alle persone del territorio, ma magari chi si trova in zona di Cosenza, in zona di Lammese e volesse raggiungervi, può contattarti, no? Esatto, può contattare me, può contattare il presidente della CSAIN Amedeo Di Tillo, può contattare Emanuele Mastroianni, presidente del Conflenti Trekking. Perfetto, allora a questo punto io ti ringrazio Maria Grazia, ti auguro sicuramente una buona serata, ma che molte persone riescano a venire qui a Conflenti. Ripetiamo di nuovo le date, tanto poi comunque passeranno in sottofondo. Allora, dal 7 al 13 agosto, il 7 agosto è torneo di calcetto, poi martedì abbiamo la corsa nei vicoli di Conflenti Superiore, è l'amichevole di pallavolo, la mezzia volley e le pianopoli volley, torneo di tennis tavoli il mercoledì, dal giovedì al sabato c'è il torneo di beach volley, che è un evento straordinario in un paese di montagna, perché non è appunto. E poi abbiamo, ho dimenticato prima, la mountain bike, un'esclusione in mountain bike che verrà effettuata domenica, partendo da Piazza Visora fino ad arrivare alla cima del Monte Reventino, il torneo di carambola e calcio balilla, e poi spinning, danza, kangoo jump e tante altre attività. Una cosa importante da dire è che ci sono degli ospiti durante queste serate, ci sarà il 9 volte campione d'Italia di tennis tavolo, che è Massimiliano Mondello, che è una forza calabrese perché è di Vibo Valencia, ci sarà, oltre alla Mezzia Volley e a Pianopoli Volley, sarà presente anche Valeria Racuglia, che è la campionessa di pattinaggio, che già l'anno scorso è venuta e c'è stato un riscontro positivissimo, tornerà quest'anno, che la sua esibizione sarà alle ore 19 di venerdì, del di venerdì 11 agosto, e ci sarà anche, grazie proprio alla CSIN che si è mossa subito, ci sarà Claudio Sala, ex giocatorio del Torino, che ha vinto lo scudetto nel 1976, insieme a Pulici e Graziani. Insomma, io invito tutti gli amici web ascoltatori, ma anche chi si trovasse in zona, turisti, a venire a questo bellissimo evento dello sport, dell'amicizia, e soprattutto un evento che accoglie e che vi dà la possibilità di riscoprire un territorio come quello di Conflenti, che è veramente ricco non solo di cultura, storia, ma a questo punto anche di iniziative sportive rivolte al pubblico. Riccardo Cristiano, Liberi TV, Conflenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.